Salve a tutti, in questo video vediamo come risolvere l'enigma della soluzione della combinazione del lucchetto che sta all'ospedale Area Reception su Silent Hill 2 Remake. Questo enigma richiede che voi esploriate un attimo e che risolviate anche l'enigma dei quadri, ma non vi preoccupate perché se siete a questo punto vuol dire che vi siete stufati e volete semplicemente la soluzione. Questi sono i quadri che dovremmo esaminare qui accanto all'Area Reception per arrivare alla soluzione, ma non vi preoccupate perché vi darò tutti e tre i codici, quindi sia che avete scelto il rompicapo sezione facile, intermedia o difficile ci sono tre combinazioni diverse. La prima, se avete la modalità facile, è 2, 8, 7. Ecco qua. Altrimenti se avete la modalità intermedia come difficoltà è 7, 2, 4. Oppure se avete la modalità hard, difficile, è 1, 5, 2. E questi sono i codici. Un saluto!